ciao a tutti sono matteo mazzoli libraio presso la libreria sapere ubic di senigallia siamo in corso 2 giugno ma immagino che molti di voi conoscano la libreria e benvenuti a una nuova edizione di the book advisor il libro con cui vorrei cominciare è uno dei romanzi più belli che abbiamo letto in questo inizio di anno ed è la malnata di beatrice salvioni una storia splendida una storia di amicizia siamo nel 1936 a monza in un contesto così difficile come una città che si prepara poi arriverà alla guerra troviamo questa amicizia bellissima tra francesca che racconta la storia e appunto maddalena la malnata questa ragazza che si dice porti sfortuna che anche solo parlando a qualcuno possa fare il malocchio è una storia veramente meravigliosa i motivi per leggerla sarebbero tantissimi ma quello principale è proprio per il personaggio di maddalena un personaggio splendido e soprattutto un personaggio che combatte contro tutto quanto di cattivo di brutto si trova si trova ad affrontare perché è considerata una strega è considerata una ragazza sfortunata ma invece lei con la sua forza e la forza dell'amicizia di francesca riesce ad affrontare i tanti tanti problemi e pericoli della sua giovanissima vita una scrittura meravigliosa un'autrice giovanissima e il primo romanzo che vogliamo consigliarvi è proprio questo